La Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ha deciso di assegnare il prestigioso riconoscimento accademico, il sigillo d'Ateneo, al nostro Carlo Pagnini e noi non potevamo naturalmente non essere presenti per raccontarvi questo straordinario evento, questo straordinario momento nella vita di Carlo, della sua famiglia di cui io faccio parte e della nostra città. Al magnifico rettore Giorgio Calcagnini comunque chiediamo un approfondimento sulle motivazioni ma anche e soprattutto sul sentimento di questa mattinata, una mattinata nella quale la commozione ha girato ma non era solo commozione, era forse qualcosa di più. Quello che circolava era quello che ci lascia la poesia, una poesia in qualsiasi lingua perché anche mi è capitato di sentire poesie in lingue che non conosco ma chi le recita, la capacità di trasmettere qualcosa riesce sempre ad arrivare all'anima, al cuore delle persone. Oggi mi sembra che l'anima della poesia circolasse nella sala qui della prefettura ed è stato molto bello. Come ho detto l'Ateneo deve secondo me aprirsi al di là degli ambiti puramente accademici della ricerca proprio perché ed è una delle missioni che in qualche modo il Ministero ci riconosce di come l'Università possa contribuire a formare quello che a me piace chiamare un capitale sociale di un territorio che si costituisce sia con la formazione, quindi con i corsi di studio, sia con la ricerca ma anche con quella capacità di trasmettere al territorio anche quello che nasce all'interno delle università e penso che oggi Carlo Pagnini possa essere indicato come uno dei personaggi che nel territorio possa esprimere questo tipo di ruolo. Come stai? Sono ancora frastornato, tornerò, tornerò qui. Tornerai in te o tornerai qui? Tornerai in me, finché posso continuo a sognare. Come ti senti, come stai, come è andata questa giornata? Sto benissimo, sto benissimo perché sono un pochino abituato al pubblico e sono abituato al pubblico, sono abituato alla gente che mi vuol bene, non è tutto oro quello che luce, però insomma in queste occasioni credo che ci sia molta verità di sentimenti.